signore e signori bentornati per una terza volta su metro exodus e su questo menù quest'oggi inizieremo un nuovo capitolo della serie, ma in realtà capitolo, mini capitolo, DLC Sam's Story, di Sam's Story già ho accennato nelle precedenti iterazioni, so molto poco so che il protagonista ovviamente sarà Sam, l'americano del gruppo che abbiamo conosciuto in metro exodus la storia principale, so che sarà un po' più lungo, tre volte più lungo dei due colonnelli qualcosa del genere, 8-9 ore e non so, si torna nell'open world, quindi le tempistiche potrebbero variare anche in base ai montaggi, tagliati, non tagliati, vedremo, mi mal tagliati, no, leggiamo deciso a tornare in patria per scoprire se i suoi parenti sono ancora vivi, Sam dice addio all'aurora e al suo equipaggio e segue la ferrovia per andare il più a es possibile, nella speranza di trovare il modo di attraversare il pacifico dalla città portuale di Vladivostok, tuttavia l'ultima parte del suo viaggio si rivela più difficile del previsto e immagino che lì entriamo in gioco noi iniziamo dopo quando l'anno viene caricato il progresso nell'autosalvataggio precedente verrà sovrascritto il salvataggio rapido non verrà influenzato, tengo presente separarmi dai miei amici è stato difficile ma per loro la morte del colonnello ha significato la fine del viaggio e l'inizio di una nuova vita sulle sponde del lago Baikal per me invece quella perdita è diventata una soglia tra l'ordine e la mia vita tra il dovere e il sogno di rivedere mio padre e come aveva fatto anche Artyom ho scelto di seguire i miei sogni lungo la strada a volte mi è sembrato che gli alberi le rovine e i pali della luce sconnessi che sparivano alle mie spalle fossero solo una scena infinita di un film proiettata su uno schermo roburo solo per me spettatore solitario in un cinema vuoto a tarda notte eppure ogni mattina il sole che mi sorgeva davanti cambiava la scena rassicurandomi che in realtà mi stavo avvicinando al pacifico un passo alla volta lento ma costante superando qualsiasi ostacolo un giorno seduto su una poltrona refinabile sotto il portico di mio padre forse sarò tentato di scrivere un libro su questa avventura un giorno ma non ora e non qui vedo la città che sarà il mio trampolino per un balzo oltre l'oceano sento odore di sale nell'aria se ho anche una remota possibilità di tornare a casa sarà qui che lo scoprirò incredibilmente vicino al Giappone e quindi andiamo a piedi adesso ma abbiamo uno zaino quantomeno priviet vladivostok reggerà? mi cicola tutto assai ok un secondo sono le 7.35 del mattino corretto vediamo lo zaino è utilizzabile abbiamo un solo medikit molto poco un secondo di filtri wow un coltello e un barattolo stiamo all'osso come armi abbiamo sto utilizzando le opzioni direi migliori certo la stabilità è utile ma non abbiamo niente di silenziato e abbiamo un due canne ok a shot colpi in questo caso un solo colpo extra quindi come non averlo praticamente e anche qui un solo colpo extra mappa di fronte a noi vladivostok giusto? e quello di fronte è direttamente il giappone non credo sia così vicino comunque le coste del pacifico quelle sono iniziamo ad essere un minimo furtivi che noi qui non abbiamo visto mutanti ma diamo per scontato ce ne siano perché ci sono state sicuramente morti e radiazioni qui cosa ok quello è indicato solo che sia un waypoint che sia un luogo di interesse sì non c'è nessun tipo di zoom con quest'arma è vero però noi abbiamo un binoccolo sì sempre che non conosca il fatto che non conosca il russo che in questo caso non è esattamente la lingua madre è comunque grave e sì con Artyom condivido la lentezza nell'esplorazione uh chi è qualcuno ha sparato non dovrei rimanere sopra questa macchina perché sono altamente visibile sono proprio una sagoma all'orizzonte che è la cosa da evitare praticamente sempre ma era anche molto forte la curiosità cerco di capire 13 95 7 anche quelli sono chilometri o come nel caso dei due colonnelli sono date non penso siano date ma può darsi siano i chilometri effettivamente qui chiaramente è tutto crollato cazzo ok là wow sparite brutti idioti occhio non fate di colpire quello è per noi e lì stanno questi simpatici amici banditi che stanno allontanando qualcuno dalla sotto probabilmente voglio immaginare non stiano guardando la porta principale che stiano concentrati sul retro ma anche qui non arriveremo lontano facendo troppe supposizioni niente di utile no una scala che porta in alto a pioli risorse probabilmente che possiamo tentare di prendere questa porta a dubito si aprirà ma permettetemi di guardare anche quest'altra direzione non credo ci sia altro nel momento come il contatore Geiger al polso neanche una piccola bussola quella avrei preferito piuttosto anche se il rilevatore di movimento quello sì che fa una grossa differenza no non riusciamo ad arrivare di là capitano capitano sono in tanti uh l'ha preso molto obbligato il bastardo non è solo occhi aperti evitiamo di consumare risorse dammi solo un istante non sapevo se era il caso di non ucciderli ma mi pare che non ci fosse davvero spazio a contrattazioni una volta iniziato lo scontro ok non mi ha sparato mi ha ringraziato per l'aiuto quindi speriamo non sia una mossa per farci abbassare la guardia eccoci qui quello che vediamo prima dalla finestra speravo di poter accendere una luce ma negativo abbiamo problemi di respirazione noi siamo sempre molto affaticati bandito oppure no lo farei uh uh siamo decoati te la ridò ascolta se avessi voluto ucciderti saresti già morto da un bel pezzo cerco un'imbarcazione che mi porti a casa me ne consigli una cioè lui è un capitano ed è uno schianto vieni te la mostro e arrivo su no eh non posso riscendere oh dio non vorrei essermi perso delle cose aspetta ora posso muorvi no non è vero no non ci tengo affatto chi è il gatto è il loro capo prendi il binocolo da qui puoi vederlo perfettamente guarda è proprio laggiù quello è un sottomarino ok wow un sottomarino infatti ed è gigantesco un bel biglietto per casa a proposito di casa dov'è la tua hai un accento vagamente familiare San Diego forza merda un altro americano pazzesco una coincidenza incredibile un altro americano Danu evidentemente non sei niente di niente te lo spiego dopo vorrei togliere il binocolo ma ok dobbiamo filarcela ma che diavolo è è lalato andiamocene prima che ci prenda ok non ho abbastanza munizioni pesanti per abbattere quei demoni tu sei un pipistrendino invece ok quando siete in tanti non siete così carini oh my god ok muu no te ne stai andando? scappi posso correre? uuuh era un no ah 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 è morto? no che cazzo ti ho lisciato perché è stato malissimo e ho sprecato il pugnale ma dove diavolo ho sparato? pare che comunque abbia avuto qualche tipo di influenza ma morirà mai? io la funivia non riesco a riprenderla neanche volendo però no forse devo saltare di là era No, eh? Ok. Un pizzico troppo ravvicinato, ma... A questo punto... Quasi preferivo. Sono più inesistenti qui, questi bastardi. Ehm... Non sto proprio al mio... Top. Ma ho un obiettivo, quantomeno. Ehm... Ho anche una mano dopo una granata. Nel dubbio, rimaniamo su barattolo, visto che alle volte... Ho il grilletto... Mamma mia queste rane... Se sono rumorose. Ho ancora... Una mappa, sì. Di là. Dubito ci sia qualche risorsa qui. E non mi sto curando. Tra l'altro... Ho di che curarmi. Sì. Ne ho abbastanza di che curarmi. Da farmi... Utilizzare un medikit. C'è qualche... Ci sono delle rane che mi stanno... Facendo qualcosa? Non credo. Ho una maschera... Ok. Avevamo infiltri, ma... Non ero sicuro che essimo la maschera. Ooooooh! Maledetta! Da dove diavolo spunta questa bestia di satana? Ok. Quindi il punto è... Qua direttamente, credo. E qui non abbiamo altro. Non saprei nemmeno come difendermi da queste bisce di satana. E spero fosse un tipo di biscia mutante e non una vipera. Altrimenti non avrei certo un antidoto e... Beh, fondamentalmente sarei spacciato. Non mi dove succedere direttamente del veleno, sarei troppo debole per potermi muovere. E quindi... Beh... Arriverebbe qualcuno a finire il lavoro. Fammi risalire. Dimmi che quello è il capitano. Siete... Ma che è oggi? Fatevi avanti, bastardi! Sono tanti. Tu vieni con noi! Prendetelo vivo! Prendi questo! Vai! Affanculo! All'inferno! Oh, un taser! Sono troppi! Sono davvero troppi. Quello là si sta per rialzare con il taser. Beh, non si può dire che ci manchi la volontà di combattere. Davvero? Muori e basta! E falla finita! Mmm... E davvero abbiamo combattuto molto più di quanto ci si potesse aspettare da chiunque. E adesso chi comanda, eh? Ma questo è... Di relativo conforto. Oh, cazzo, cazzo! Wow! E dobbiamo davvero ringraziare che ci vuole solo tenere in vita. L'hai sentito come imprecava? Fanculo! Bastardi! Vi ammazzo! Era americano, fidati. Come sai così bene l'americano se non parli bene neanche il russo? Beh, ho visto molti film americani prima della guerra. Magari li ha visti anche lui. Guarda, è sveglio. Ehi, da dove vieni, amico? Da Mosca. Senti, non sei americano, amico? No, sono della Buriazia. E va bene, ci hai preso. Sì, sono americano. Ecco, hai visto? Ma scherzi. Ecco perché ci abbiamo messo tanto a stenderti. Oggi non è giornata. E muy densegodni. Così sembra. Beh, potresti sempre cambiare idee. Ragazzi, abbiamo preso un americano. Chiamiamo subito il gatto e diciamogli. Appunto, il gatto. Postino perché fa le consegne? E il gatto perché? Dimmi che non è perché gioca con gli suoi prede. Ti prego. Chiamiamola così. Sì. Chiamiamola così. Recapitata l'offerta al capitano. Nah, quello si è spaventato per un non nulla. Ma abbiamo preso un tizio che era con lui. E indovina un po', è americano. Eh? Ti prendi per il culo? Tom. Credimi, capo. Imprecava come te nei giorni neri. Quindi anche questo è americano. Passa la radio a questo americano, ok? Ok. Mi sento un idiota da rispetto a questa cosa, ma in ogni caso, chi sei? L'enfasi sulla parola ospite mi ha... Abbiamo fatto un bel coro. Adesso, dimmi che è quello che aveva capito subito che era americano. Wow. Notevole, eh? È tutto nostro. Notevole. Diavolo se è grande. Ok, quindi c'è un altro ingresso. Tom. Grazie. Anche se la storia... Mi puzza assai. A cosa gli servono degli americani? Anche il capitano americano. Dovremmo ridere di meno, mi sa. Qui il tutto... È molto complicato. E noi potremmo uscirne male. Poi persona del posto. Salve. No, ok. Di qua non vado a nessuna parte. Capisco, capisco. L'acqua sulle lamiere. E lì... Il nostro amichevole carceriere. La Mayflower. È un nome che ho già sentito, direi. Posso spegnere la luce. Per dispetto. O deformazione professionale. Una delle due. Tanto non vi offendete, no? Sto salendo. Cazzo, che bello vederti. Sono 23 anni che non incontro un altro americano. Io sono Tom. Piacere mio, Tom. E tu, il santo marino. Mi dai un biglietto. Un biglietto? Bella questa. Avanti, seguimi. Parliamo un po'. Solo tra un secondo, perché queste mi sembrano delle casse apribili. Sempre senza cattiveria, giusto? Gentilissimo. Il colpo per un fucile di precisione che non ho, ma... Chissà. Allora, dove vorresti andare? A casa. Stai ancora tentando di vedere se sono davvero americano? Che check sono questi? Non si fida proprio... Niente di personale, caporale. Sono tempi duri. Cosa le cambia il fatto che io sia americano? Fidati, ma verifica. Esatto. Mmm. A proposito, Sam, questo è Klim. Il mio braccio destro. È il responsabile della divisione Forza Bruta della mia azienda. Bel posto, Geno. Ciao, Sam. Ho sempre il nostro, Klim. I ragazzi di Klim ti hanno invitato qui al momento giusto. Il pontile ci ripara dal vetto e, nonostante questo, guarda un po' che roba. Già, fossi rimasto lì, ora sarei in volo verso il Kansas. Non che ci voglia andare. E dove vorresti andare, invece? Anzi, aspetta. Che ne dici di una fumatina mentre mi racconti la tua storia, Sam? Non si rifiuta una fumata. Anche se non c'è molto da raccontare, in realtà. Medio Oriente, Afghanistan e poi Mosca. Facevo la guardia all'ambasciata. Ero nella metro per caso quando è successo il casino. E' sopravvissuta molta gente. Poi, siamo stati lì per vent'anni, credendo di essere gli ultimi sopravvissuti del piano. Questo loro mica lo sapevano, eh? Questo non gliel'avrei voluto dire. Non avrei dovuto dire del lago Baikal. Capisco. Quindi cerchi qualcuno che ti riporti a casa? Sì. Oggi la gente non attraversa più il Pacifico come ai vecchi tempi. Ma posso portarti col sottomarino? Perché mai dovresti farlo? E' più un potrei che un posso, Tom. Giusto, Clem. Posso aiutarvi, Tom? Comunque, dove hai preso questo sottomarino? È una lunga storia. Forse preferisci un breve riassunto? Beh, certo. Ho fretta, ma non fino a questo punto. Se è così, la prenderò da lontano. A proposito, ho quasi azzeccato un infuso acido del Tennessee. A parte l'invecchiamento, ovvio, ma l'aroma è praticamente quello. Bevi con noi, Clem? Bevo la mia roba. Quell'introglio fighetto non fa per me. Era solo il primo lotto a essere venuto male. Ma fai pure come preferisci. A noi tre. A noi tre. A noi tre. Wow. Coro show. Oh, sì. Che ti dicevo? Allora, pronto ad ascoltare? Vai pure. Ero qui per affari prima della guerra, in particolare il mercato internazionale di armi. Casualmente. L'agente del posto aveva parecchi soldi e voglia di fare, ma nessun aggancio né un minimo di stile. E qui entro in scena. Clem teneva i contatti con i nostri partner locali. Appena prima della guerra la nostra attività stava iniziando a decollare, ma poi sono cadute le bombe. Il resto lo sai. Eh, già. Però la nostra azienda aveva un vantaggio. Magazzini pieni di armi, con i ragazzi di Clem addestrati a fare la guardia. Mmh, che combo. Poi siamo entrati in una fase di crescita e qualche anno fa abbiamo saputo di un insediamento fiorente qui a Vladivo. Guarda quella pistola. Lo governava l'ex capitano che ha incontrato prima. Aveva fatto un ottimo lavoro, devo ammetterlo, ma non era pronto per la guerra continua contro i banditi. Così ci siamo offerti di aiutarlo. Il capitano ha accettato e non se ne è pentito affatto, dato che Clem ha debellato i banditi in modo radicale. Ma? Già, si vede ancora qualche impeccato. Giusto? E poi abbiamo scoperto che il sottomarino funzionava ancora e il capitano non aveva mai sfruttato tutto il suo potenziale. Come avrebbe dovuto sfruttarlo? E state atomiche che stanno nei sottomarini? Dopo la guerra, l'umanità ha rischiato di non sopravvivere perché non c'era una forza in grado di convincere i superstiti a unirsi per ripristinare la civiltà. Ma noi, noi, potremmo creare quella forza, un nuovo stato, un'autentica città ideale che potrebbe guidare il mondo verso nuove conquiste, trasformando in un nuovo inizio l'Apocalipsis. Non spareremo. Basterà gettare l'ancora davanti a ogni insediamento, aprire i portelli dei missili e gli abitanti ci concederanno tutto accettando il nostro potere. Oh, lo trovi poco elegante? Eppure è solo un semplice dato di fatto. Noi siamo il potere qui. Noi siamo la forza che guiderà tutti quanti verso il futuro. Capisco. E che ne pensava il capitano? Quello che ne penso io. La persona testa è approvato a liberarsi di noi, ma quando ha capito che non aveva speranze, è scappato. Quindi sei tu quello che decide la rotta adesso, giusto? Certo. C'è solo un piccolo problema. Il sottomarino funziona, ma i reattori sono a secco. E solo l'ex capitano sa dove sono le barre di combustibile e come installarle. Ma purtroppo, dopo le nostre divergenze, si rifiuta anche solo di parlare con noi. Già. Molte cose hanno senso ora. Fase di stallo. Allora ti propongo un patto. Sam, potresti farci da negoziatore. Fai ragionare quel fossile. Se ci aiuta col combustibile e gli lasciamo l'insediamento, troveremo una base migliore. Beh, potrà tenersi membri dell'equipaggio che non vogliono seguirmi. Ottenuto il combustibile, San Diego sarà la nostra prima destinazione. Ci stai? Ci sto. Sam, da negoziatore ti serve protezione. Ti manderò i migliori. No, lavoro da solo. Ma, io lavoro da solo. Oh, il nostro amico ha fegato. Ok, lascialo fare, Clem, se la caverà. Come vuoi, capo. Dunque, siamo d'accordo. Però, se devi rappresentarci nei negoziati, dovremo equipaggiarti con i nostri standard. Questo mi piace. Anche se voglio fare il doppio gioco. La regola alla radio di Sam sulle nostre frequenze. Certo. Ecco. La parte importante, la mappa della zona, è la più precisa possibile, data la situazione. Ci sono indicati anche i nascondigli noti del capitano. Meglio iniziare da lì. Ok. Fatto. Spassi i book, Clem. La radio ora è a posto. Per il resto dell'equipaggiamento, passa al poligo. Non ti daranno tutto il necessario. Prima però, riposati. È stata lunga oggi. Grazie, ma preferisco andare ora. Meglio battere il ferro finché è caldo. Beh, fa come vuoi. Grazie, Tom. Credo che andrò subito. Dopotutto, la tempesta è passata. Auguri. Certamente. E sentiamoci. Just leave. Just leave. Ciao. Capisco perfettamente il capitano. Questi sono dei bastardi, dei banditi tripla A, semplicemente. Gente che è bene, non rimanga in giro troppo a lungo. Chissà se avremo modo di avere comunque un biglietto per San Diego, ma senza piegarci a questi pieghi mezzi. sempre riposate. Corri. 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 Grazie a tutti.